Ciao Eugenio, sono qua Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport. Parto dalle tue dichiarazioni post Brescia, quando hai detto che in questo momento questa squadra non può ambire i primi due posti, penso ti riferissi più al secondo che al primo. Volevo chiederti, al di là del fatto che sono suonato un po' come una sorta di dichiarazione di resa, ti volevo chiedere se tu ci credi ancora che questa squadra possa andare in Serie A e se no perché? Ora intanto grazie che me l'hai chiesto così la chiarisco subito e diventa fondamentale per me questo. Era riferito alle ultime due partite che come ho detto ci hanno purtroppo riportato indietro, purtroppo a prescindere le nostre due sconfitte che non ci hanno fatto guadagnare punti, le nostre dirette concorrenti hanno fatto punti. Di conseguenza è un dato oggettivo, matematico e rispetto a questo è più difficile raggiungerlo perché abbiamo una distanza di punti che con le partite che avevamo fatto bene, avevamo colmato. Eravamo arrivati a meno uno dalla promozione diretta e purtroppo le due sconfitte ci hanno riportato indietro da questo punto di vista. Di conseguenza la distanza si è acuita ma il fatto che noi ci proveremo fino alla fine è in dubbio e questo lo metto in maniera ufficiale che per noi la partita di Lecco vuol dire riniziare un percorso, vuol dire vedere che dobbiamo fare bene noi perché senza fare punti noi non puoi sicuramente scalare la classifica. E magari quello che è capitato a noi in queste due partite può capitare a qualche squadra che in questo momento c'è davanti in classifica, però noi dobbiamo ripensare a fare il nostro e di conseguenza, come vi ho detto, lo dico da 13 partite fa che c'erano un sacco di punti ancora da fare, ce ne sono ancora tantissimi perché 10 partite valgono 30 punti, di sicuro dobbiamo tornare a farli noi e poi vedremo quelli davanti dove oggi purtroppo la distanza è diventata più ampia rispetto a quella che era due o tre partite fa e dobbiamo di nuovo colmarla ma facendo prima di tutto i punti noi e le vittorie a noi. Senti, qualche partita fa quando eravate settimi hai detto questa squadra non è da settimo posto, non possiamo essere settimi, adesso siete ripiombati al sesto posto, perché questa squadra non riesce a fare quel salto di qualità quando lo deve fare in considerazione di un organico che comunque è stato costruito, avete costruito tra l'estate e il gennaio di alto livello. È un dato oggettivo e sicuramente fa star male tutti, è un dato su cui riflettere, sicuramente è stata una settimana terribile rispetto a Cremona, Terni, Brescia, se Cremona è un'occasione persa come vi ho detto sia dopo la gara che qui prima di preparare la Ternana e sono state le due partite successive che comunque vincendole ci avrebbero permesso di stare agganciati a tutto quello che avevamo fatto e dar valore ancora di più a quello che avevamo fatto dal mese di dicembre in poi con tanti risultati importanti, contro squadre forti, purtroppo sono state due partite particolari che ci hanno respinto, sono state un pugno nello stomaco che ci ha fatto male, però come dicevo ce ne sono dieci e dunque devi anche pulire questa delusione che c'è, la percepiamo, l'abbiamo noi, la percepiamo nell'ambiente perché l'ambiente era carico, motivato, ci sosteneva ed è normale che queste due partite purtroppo ci hanno ricacciato indietro il dato oggettivo riguarda anche la classifica, è anche vero che i punti rispetto alla promozione diretta sono diventati di più ma non è un margine impossibile da recuperare in dieci partite e dunque noi dobbiamo tornare a fare il nostro anche se oggi il dato oggettivo riguarda la classifica è questo e dobbiamo purtroppo accettarlo e abbiamo pagato duramente queste due partite che abbiamo perso. L'ultima per me, ti posso chiedere che cosa non ha funzionato in queste tre partite perché francamente non abbiamo avuto mai una spiegazione concreta, c'è stato un problema tattico, tecnico, fisico c'è qualche cosa che hai fatto e non rifaresti col senno del poi? Se vuoi le ricommento, ma mi sembra di essere stato abbastanza esaustivo nella spiegazione delle tre partite tutte le domande che vi fate io cerco di rispondervi e di darvi quello che è la mia logica Cremona ha avuto un percorso particolare e siamo usciti da lì con un primo tempo secondo me è fatto molto bene, cinque minuti, due gol sicuramente hanno rimesso in careggiata la Cremonese e non stiamo stati capaci poi anche in sopportà numerica di andare a rivincere la partita con la Ternana è stata una partita che per tratti abbiamo dominato e che quando poi la Ternana ha fatto il 2-1 proprio la generosità e la mancanza di lucidità ci ha penalizzato e ha messo in condizione la Ternana di vincere la partita che purtroppo è dovuta a quel secondo tempo di Cremona dove tutti abbiamo percepito che stava nascendo qualcosa di importante che purtroppo non si è realizzato e non si è compiuto come tutti li volevamo con la vittoria e questa generosità che è sfociata in mancanza di lucidità ci ha fatto perdere la partita con la Ternana quella col Brescia è una partita oggettivamente particolare perché penso che peggio di prendere un gol dopo 20 secondi dopo aver perso una partita in casa non ci fosse niente di peggiore di questo ma la squadra in tre minuti si è preso un calcio di rigore, in altri dieci minuti è andata in vantaggio dopo il gol del vantaggio ha avuto due o tre situazioni per fare il 3-1 poi su una giocata purtroppo abbiamo subito l'espulsione e lì la squadra alla terza partita con qualche difficoltà anche emotiva del percorso che ci ha portato a giocare quella gara ne ha sofferto e il Brescia purtroppo ha alimentato il vantaggio in maniera molto importante e il secondo tempo è stato oggettivamente difficile per tutta una serie di motivazioni ma sai io penso che quando c'è una difficoltà c'è dentro di tutto io ti ho spiegato e cerco di ribadirti se la generosità che questa squadra ha, la volontà, la spinta emotiva che c'era e l'avete visto con la Ternana, se andate a rivedere i primi 20 minuti a prescindere dal gol della Ternana al 10 minuto non c'è partita e la percezione è che potessimo far gol in qualsiasi momento il primo tempo bene o male la falsariga è stata quella come all'inizio del secondo tempo nel prendere il 2-1 è montata l'ansia da rimonta che ti fa perdere distanze purtroppo la generosità a volte non paga se non è equilibrata dunque bisogna essere generosi ma equilibrati e questo purtroppo ci ha fatto perdere qualcosa ed è dovuto per me alla delusione che sicuramente il secondo tempo di Cremona ha lasciato per qualcosa che poteva diventare straordinario e che purtroppo non si è realizzato e non siamo stati capaci di reggere questo tipo di situazione e poi di consulenza nasce l'errore nascono delle cose che ti penalizzano e in questo momento purtroppo dentro quelle partite parlo di Terni e Brescia non ha avuto la forza e l'energia necessaria poi per andare a fare il risultato Buon pomeriggio Eugenio Paolo Vanini del Corrello Sport mi immagino che la domanda non abbia una risposta facile però io te la faccio lo stesso la concentrazione è allenabile o almeno migliorabile e tu cosa stai facendo in particolare per migliorare questo aspetto che onestamente è quello sul quale troppo spesso siamo caduti faccio un paio di esempi tu ci hai spiegato nelle settimane scorse l'hai fatto veramente molte volte nel corso dell'anno che fate continue sedute video per verificare gli errori che avevi spiegato alla squadra che si può vincere anche per 1-0 quindi che ci sono magari degli atteggiamenti da tenere forse anche un pizzico più appunto equilibrati poi succede perdonami che dopo 15 secondi c'è un giocatore libero sulla sinistra del Brescia e prendiamo un gol così poi sì l'abbiamo rimessa in piedi però secondo me quello è un segnale di qualche cosa che nella concentrazione della squadra iniziale forse non ha funzionato quindi ti chiedo è allenabile questa cosa è migliorabile tu cosa puoi fare al di là delle sedute vite hai parlato con la squadra guarda c'è un discorso che la concentrazione per chi fa del professionismo penso che sia una cosa fondamentale dentro quella cosa che è concentrazione c'è l'attenzione la lucidità tutte quelle cose lo stato emotivo che ti porta a fare la cosa giusta al momento giusto quella situazione lì è chiara del perché quel giocatore era lì su una rispinta fatta da dietro e perché è nata quel tipo di situazione di conseguenza poi c'è anche un errore tecnico un errore che diventa tattico di conseguenza purtroppo è e l'abbiamo pagato ma non è un problema di concentrazione io penso che il discorso globale sia legato a la volontà di fare delle cose importanti di aver rimesso in pista un campionato con un percorso che ci ha portato delle partite parlo da dalla partita di Parma in poi questa squadra ha riportato di nuovo a essere un punto della promozione diretta quello che abbiamo fatto a Cremona di conseguenza la volontà è di ripartire riposizionarsi la concentrazione la alleniamo ed è c'è è leggerle le situazioni e farlo in maniera lucida questa è la vera difficoltà è che purtroppo a volte l'ansia la voglia di fare ti porta fuori equilibrio e ti fa fare errori che poi dopo diventa difficile andare a mettere a posto la seconda che ti faccio è un po' collegata anche a questo i dati della squadra mi sembrano evidenti a dieci giornate alla fine secondo me è un po' difficile certe caratteristiche che improvvisamente scompagnano tu hai una squadra che ha il secondo miglior attacco da quindici partite segna una marea di gol sempre due almeno più di sette partite è una difesa che improvvisamente è diventata una delle peggiori del campionato che non c'è partita soprattutto in trasferta purtroppo che non faccia un agaffo comunque che prendiamo almeno un gol ci dobbiamo aspettare a questo punto come dire di insistere su queste caratteristiche cioè il Palermo vincerà sempre soltanto come ha fatto per la maggior parte delle volte del campionato segnando un gol in più dell'avversario perché ha un'anima di questo tipo e non riesce a correggere i difetti oppure invece l'equilibrio di cui abbiamo sempre parlato prima o poi riusciremo a trovarlo tu insisterai su questo ma l'abbiamo cercato l'abbiamo anche trovato per un periodo purtroppo poi le ultime tre partite abbiamo risubito gol e dentro bisogna anche vedere come poi li abbiamo subiti e il perché li abbiamo subiti sicuramente è la nostra è una squadra che vuol provare a giocare che gioca ma sappiamo anche quanto è stato importante ritrovare quella compattezza che è stata fondamentale nella prima parte del campionato che avevamo perso nel periodo negativo di ottobre-novembre che abbiamo ritrovato dopo aver rimesso in sesto il campionato nel mese di dicembre e soprattutto poi in gennaio abbiamo consolidato anche un certo tipo di atteggiamento scegliendo anche caratteristiche sui giocatori che potessero consolidare questa idea di provare a giocare come vogliamo fare ma di avere anche un'attitudine dal punto di vista del recupero difensivo caratteristiche diverse in qualche interprete purtroppo queste tre partite ci hanno penalizzato anche da questo punto di vista ma la ricerca sarà continua nel lavoro da fare anche a prescindere dalla struttura tattica nelle caratteristiche che possono aiutare questa squadra a consolidare un discorso difensivo fatto meglio bene da parte di tutto il gruppo squadra Ciao Eugenio Tullio Filippone Repubblica Palermo tu hai detto dopo la partita con la Ternana che secondo te non c'era un problema fisico partiva anche con la Cremonese e Ternana un problema fisico poi però è stato fatto un turnover massiccio col senno del poi ti sei anche un po' pentito di questo o sei stato deluso da alcune prestazioni e in virtù anche del turnover ecco adesso in vista della partita con l'Ecco ci sono mi sembra 8 giorni insomma ci sono più giorni per recuperare come sta come la sta la squadra guarda io da un punto di vista della condizione atletica ribadisco che non è una difficoltà anzi la squadra da questo punto di vista corre e fa ho fatto tre giorni dopo la partita con la Cremonese ho rimesso in campo la squadra titolare perché Lund rientrava e ho fatto solo una scelta tecnico-tattica rispetto a Traore che ho preferito in quella partita per dare un turno di riposo dentro la settimana a Federico ma fondamentalmente era la squadra titolare che era quella che poi aveva fatto il percorso importante spesso vi ho detto insomma mi conoscete da un anno e mezzo come allenatore che è la terza partita quella che secondo me è più invasiva per chi fa minuta a giocare Diachite l'avete visto anche nella partita in casa l'avevo tolto perché aveva qualche crampo Ceccaroni era la terza partita di conseguenza ho fatto due cambi sulla linea difensiva ho voluto mettere energia a centro campo con Colibali al posto di Jacopo che ha speso tanto in questo periodo e sapevo che dentro la partita poteva darmi eventualmente una mano ho scelto Liam come trequartista sotto la prima punta perché Filippo è da tanto che non giocava tre partite consecutive di conseguenza l'avevo visto un po' stanco e di conseguenza Di Francesco fondamentalmente ha ripreso il posto che avevo occupato dunque era qualcosa per me regato alla partita alla condizione di qualche giocatore e da questo punto di vista è stato fatto un lavoro per capire chi avessi recuperato sì da un punto di vista prettamente atletico come vi ho detto sia Gomes che Diakite avevano fatto sulla rifinitura dunque le riflessioni sono state profonde e il turno verrà da fare secondo me sulla terza partita dove purtroppo le energie vengono meno soprattutto per chi ha fatto tanto minutaggio e poi ti volevo chiedere grazie dal punto di vista psicologico vi siete detti qualcosa sul primo tempo usciti diciamo dal primo tempo a Brescia sul 4 a 2 tra l'altro con scelte importanti è uscito il capitano Matteo Brunori e poi avete continuato a parlarne per ricaricarvi vi siete detti qualcosa in particolare in questa settimana proprio sul momento perché io immagino che quello il primo tempo di Brescia sia stato proprio il momento ci sono momenti dentro il campionato in alcune partite più difficili di altri sicuramente la pausa del primo tempo di Brescia è stato uno di questi momenti perché c'era la delusione di quella partita della partita precedente una situazione purtroppo di inferiorità numerica e dunque c'erano tante componenti e la squadra fra virgolette era normale che emotivamente fosse colpita da quello che era successo però dovevamo giocare altri 50 minuti perché c'era il secondo tempo e c'era sicuramente il tempo di recupero di conseguenza la scelta tattica è stata fatta per avere più qualità con Ranocchi a centro campo era stata fatta perché Matteo anche lui aveva era la terza partita di conseguenza aveva speso tanto aveva bisogno di un'energia diversa perché dovevamo anche fare una fase di non possesso con un giocatore in meno e avevo bisogno di un giocatore che attaccasse la profondità e dunque ho cercato di fare dei cambi tattici per tenere alto il livello di condizione della squadra per avere un'idea di qualità che mi potesse permettere di accorciare le distanze per poi magari con uno sforzo finale andare a pregiare la partita mantenendo un equilibrio perché purtroppo l'inferiorità non ti permette di fare certe cose e da un certo punto di vista emotivo la squadra ha risposto e ha messo in campo una terza partita di settimana che è più difficile avere delle energie in più ci ha provato con generosità sicuramente è stata una partita dove non siamo riusciti a imprimere ritmo per tutta una serie di situazioni ma è complessiva del momento della situazione e questa è stata la valutazione rispetto alla fine del primo tempo di Brescia le condizioni in cui dovevamo affrontare il secondo tempo Buon pomeriggio Messimiliano Radicini giornale di Sicilia Italpress poco fa nella prima risposta diceva che con quell'obiettivo resta quello di provare e collottare per ottenere la promozione diretta però le chiedo cosa ha visto la squadra che le fa credere ancora che questo gruppo possa riuscire ad ambire a questo risultato così importante è quella la rabbia la delusione forte che ti fa barcollare ma che poi ti dà una forza un'energia incredibile perché abbiamo già dimostrato di saper fare delle cose importanti nei momenti difficili questa squadra ha sempre trovato risorse ed energie nel momento in cui potevamo spiccare il volo abbiamo preso di nuovo due schiaffoni che ci hanno riportato a terra però vedo e sento energia per quello come li vedo lavorare con che impegno con che dedizione con la delusione che è in tutti noi perché siamo i primi a essere delusi dopo aver percepito qualcosa di incredibilmente bello che stava per nascere e dunque questo dipende da noi e dunque come vi ho detto pensare all'eco vuol dire ripartire noi dobbiamo pensare a fare punti perché c'è spazio tempo e noi finché ci sarà la matematica che ci accompagna dobbiamo pensare a fare punti e poi vedere cosa fanno le altre che oggi purtroppo sono davanti a noi come punteggio ecco proprio in relazione alla partita con il Lecco che tipo di gara si aspetta chiaramente sono in piena crisi hanno fatto un solo punto nelle ultime nove partite sì il dato purtroppo oggettivo per loro è che sono in una situazione di grande difficoltà nell'ultimo scorcio di campionato hanno perso spesso dunque sappiamo che è una squadra che ha attitudine perché ha delle qualità offensive con giocatori rapidi e sono molto bravi sulle palle inattive e di conseguenza noi dobbiamo a prescindere dall'avversario che è Lecco ma poteva essere qualsiasi altra squadra dobbiamo andare a fare la partita che vogliamo fare dimostrare quello che diciamo che prende forma e vincere la partita dunque a prescindere il massimo rispetto per Lecco ma poteva essere un'altra squadra ma per noi è un punto di ripartenza e dobbiamo dimostrarlo facendo una partita gagliarda solida dove vogliamo portare a casa la vittoria Buon pomeriggio mister Leandro Figaro per il punto it ecco nella fragilità difensiva emersa in quest'ultimo periodo i golli nascono da varie matrici cioè il Palermo prende golli in tutti i modi da sinistra sull'esterno col tiro da fuori manca la pressione la schermatura difesa schierata su un cross ecco come si fa a capire dove come intervenire quando il Palermo prende golli in modo così variegato eterogeneo poi volevo chiederle come mai Sturles è rimasto totalmente fuori dalle rotazioni in questa settimana se lei quindi non lo ritiene funzionale alle sue esigenze in questo momento e poi volevo anche capire il cambio nel momento dell'espulsione di Marconi magari in molti pensavano che lei potesse tirare fuori un attaccante esterno ma ha preferito rinunciare a un centrocampista capire semplicemente la logica dietro questa mossa grazie i gol nascono da varie situazioni e giustamente si analizzano si cerca di capire cosa si poteva fare meglio è vero quello che dici tu dal tiro del limite però purtroppo eravamo in uno in meno reggendo una parità numerica laterale di un 3 contro 3 i 6 che coprivano l'aria avevamo un tempo di ritardo su quel tipo di uscita l'ha fatto Matteo l'ha fatto Nede e poi ha fatto un tiro molto importante un altro gol che fanno un calcio d'angolo riciclato di conseguenza è una palla dove Borrelli si rimette sotto da un fuorigioco iniziale e poi prende posizione sul nostro difensore e fa un gol di qualità il primo gol è un calcio d'inizio dove ho detto c'è stato qualcosa che ci ha penalizzato per quello spazio che si è creato sul primo cross e su cui dobbiamo lavorare sono errori ma ci si cerca di lavorare questo lavoro ha portato per un periodo anche dei frutti importanti dunque non bisogna arrendersi bisogna martellare lavorare cercare di migliorarci dal punto di vista individuale da un punto di vista collettivo e questa sarà sempre una ricerca continua perché c'è sempre spazio per fare delle cose e l'abbiamo dimostrato purtroppo questi errori ci hanno penalizzato tanto e hanno messo in condizione gli avversari di vincere le partite mentre altre volte siamo stati più bravi noi e siccome abbiamo già dimostrato di poterlo fare lavoriamo per tornare a farlo il discorso è che da questo punto di vista la copertura del campo degli esterni in quel momento poteva per me essere importante perché fondamentalmente avevamo un esterno come Dima che può fare anche un lavoro di raccordo importante Federico è un esterno che lavora ma ti va a giocare anche tra le linee poteva accompagnarmi meglio da seconda punta Matteo e ho tenuto in maniera equilibrata i due centrocampisti centrali come Colibali e Gomez proprio per avere un equilibrio che mi serviva e un palleggio poi in uscita Liam è definito come un giocatore centrale di centrocampo anche se a volte può adattarsi ma nella scelta dei tre ho privilegiato mantenere il sistema sulle caratteristiche degli esterni e dovevo togliere per forza un centrocampista o scalavo a Liam a fare il doppio mediano ma con un'inferiorità numerica e 70 minuti da giocare ho preferito tenere Colibali e Gomez Stulaz c'era un'idea su queste partite oggettivamente in questo momento il momento di forma di Claudio l'ha penalizzato dunque è solo un concetto legato al fatto che in questo momento Claudio per me sta molto bene sia da un punto di vista tecnico-tattico che mi dà delle cose e di consuenza è solo una scelta in riferimento a un giocatore che per me oggi sta molto bene dal punto di vista mentale e ci dà delle cose dal punto di vista tecnico-tattico dunque ho privilegiato anche nelle partite diciamo consecutive Claudio su una scelta tecnica non riferito alle caratteristiche di Leo ma proprio perché il ragazzo per me sta vivendo un momento molto importante ho preferito far giocare lui Buon pomeriggio Eugenio Marco Capone Palermo Today questi 225 minuti probabilmente hanno fatto più male rispetto alla crisi che avete patito tra ottobre e novembre tu in quelle occasioni ci hai detto la squadra ha avuto le palle ha dimostrato di venire fuori da questo momento prima hai ribadito che secondo te non c'è nessun tipo di problema dal punto di vista atletico allora ti chiedo ti aspetti una risposta emotiva importante non soltanto all'ECO ma anche nelle prossime settimane e proprio in ragione di questo tu dici sempre che ragionate step by step partita dopo partita però mancano dieci giornate avete la consapevolezza che comunque se si vuole ambire a quel tipo di obiettivo non sono più ammessi passi falsi cioè i giolli sono esauriti assolutamente grazie qua mi permetti di dire una cosa a cui tengo spesso fra virgolette si è ironizzato sul fatto che dicevo percorso adesso percorso non ce n'è più ci sono dieci partite dieci partite bisogna portare a casa il meglio possibile di conseguenza fino a tre partite fa sognavamo qualcosa di importante perché lo sentivamo eravamo a un punto oggi lo continuiamo a sognare in una situazione da puntista numerico diversa perché abbiamo perso due partite e dunque la partita ha detto lecco nel massimo rispetto ma poteva essere qualsiasi partita è una di quelle partite a prescindere da chi va a incontrare dove devi mostrare delle cose dove devi far capire che quello che è successo è successo e noi magari sappiamo bene perché può essere successo ma dunque è un punto di ripartenza fondamentale ed è quello che diciamo ci crediamo alla promozione diretta arrivare secondi sì ci vogliamo provare sì e come lo dimostriamo vincendo la partita punto dunque qua adesso quel percorso di 18 mesi porta a giocarsi queste dieci partite in queste dieci partite daremo il meglio possibile per arrivare più in alto possibile e bisogna dimostrarlo facendo punti e facendo punti per la partita di Lecco vuol dire provare a vincerla e mettere tutte le nostre energie per farlo buon pomeriggio mister Cettina Pellittere a Zurranus lei ha detto percorso di 18 mesi dove si è passate dall'entusiasmo alla depressione e dalla depressione all'entusiasmo con la velocità della luce ora al di là del fatto che a un certo momento il Palermo aveva il destino nelle sue mani fino alla fine del primo tempo con la Cremonese eravamo proprio lì si è precipitati in una maniera vertiginosa allora quello che le chiedo io lei ha detto dopo la gara appunto con il Brescia è che dovete ancora lavorare ma dieci giornate dalla fine esattamente su cosa si deve lavorare è un pensiero sui tifosi che nonostante il malumore le critiche feroci saranno presenti con la gara dell'Ecco in maniera abbastanza numerosa ragazzi a volte è difficile perché veramente qualsiasi cosa dica ci si ironizza si creano situazioni cioè tu quando ti alzi fai il tuo lavoro lavori o no? cioè nel senso io vado in campo e lavoro vuol dire allenare i miei giocatori consolidare le cose che fai bene migliorare quelle che vanno meno bene capire perché hai fatto un errore e andare a video andare in campo a migliorarlo il lavoro è continuo anche se uno dice una cosa un giorno poi è quella cosa lì rimane fissa nella memoria poi si risbaglia si rifanno errori cerchi una caratteristica di un giocatore rispetto a un'altra per consolidare quello che vuoi fare il lavoro è continuo non penso che tu non lavori tutti i giorni per migliorarti per fare il meglio le tue cose dunque per me è una cosa importante lavorare c'è sempre da imparare c'è sempre da migliorare è quello che facciamo quotidianamente non è un senso astratto lavoro cosa dobbiamo fare lavoro vuol dire vai in campo in allenamento e ti impegni per migliorarti vai a fare una seduta a video ti faccio vedere cosa potevi fare meglio poi andiamo in campo insieme e ti cerco di far capire come puoi migliorare qualcosa che non hai fatto bene questo è un lavoro continuo che tutti i allenatori al mondo fanno e non è mai finito tu non puoi pensare di aver messo un concetto e siccome l'hai fatto quello ce l'hai no ce l'hai ma se non lo riprendi se non lo lavori poi c'è un momento che il giocatore sta bene il giocatore sta meno bene quello che è da un punto di vista mentale più reattivo quello che è più in difficoltà fai un errore tecnico lo fai tattico è un lavoro che è continuo dunque è una cosa importante che tutti i allenatori del mondo in qualsiasi momento fanno dunque cerchiamo anche di dare valore a quello che dico perché se no tutte le volte su qualsiasi cosa si costruiscono delle cose che non hanno senso mi sembra di parlare italiano di parlare chiaro poi uno può costruirci tutte le cose che vuole e giocarci su tutte le situazioni come vuole però dai su andiamo avanti Salve mister Manfredi Esposito Live Sicilia volevo chiedere come sta Marconi le ultime due partite per lui purtroppo non sono state positive due cartellini rossi due espulsioni quest'anno sta trovando poco spazio poi anche queste appunto due espulsioni come l'ha visto in settimana grazie Ivan è stato ed è un giocatore importante per me lo è stato per il Palermo perché ha vinto anche un campionato quest'anno il livello di competizione del Sonoro era alto visto che abbiamo acquistato Ceccaroni di conseguenza il titolare è stato Ceccaroni quando Ceca si è fatto male ha fatto delle partite importanti purtroppo è successa la cosa di Como che l'ha penalizzato da questo punto di vista con l'espulsione ma l'ho visto bene di conseguenza nella tre partite settimanali valutando tante situazioni l'ho preferito a Ceccaroni e poi purtroppo è stato anche sfortunato nell'intreccio di gambe perché probabilmente la deviazione dell'unda ha messo le condizioni la palla di andare in verticale verso la porta e sull'intreccio di gambe ha dovuto per forza gli andato incontro bianchi ed si è verificata l'espulsione Buonasera gli spogliatoi da cosa nasce questa decisione su Brunori ho risporto 14 volte l'ho detto dopo la partita l'ho detto oggi c'è una scelta tecnico-tattica da punti di vista dei gol presi sappiamo che possiamo migliorare ma ne abbiamo fatti tanti che hanno prodotto più punti rispetto all'anno scorso perché il valore complessivo della squadra è sicuramente migliorato l'anno scorso mi dicevate che ero speculativo quest'anno mi dite che sono troppo offensivo sicuramente dobbiamo trovare la squadra rispetto a quello che poi fa fare il risultato alla squadra Sì mister buon pomeriggio Peppe Musso forza palermo.it le volevo chiedere tornando diciamo a una settimana di lavoro tipo come ha visto la squadra se già ha un'idea di formazione titolare da schierare domenica all'ecco insomma quanti dubbi si porta dietro No sono abbastanza orientato sulla squadra che scenderà in campo certo dobbiamo fare ancora un allenamento di consuenza devo valutare delle cose per dire Roberto Insigne è un giocatore che nell'ultimo mese dopo che ha subito una piccola distorsione al ginocchio si è recutizzato un problema all'adduttore dunque il ragazzo sta cercando di stare dentro ma nei cambi di direzione a volte purtroppo sente fastidio all'adduttore ed è un giocatore che sicuramente domani verrà valutato perché poi è lui che ci deve dire quanto riesce a reggere la soglia di questo dolore l'ha fatto nell'ultimo mese ma sicuramente l'ha penalizzato da questo punto di vista il resto dei giocatori sono a disposizione perché anche De Planch per la settimana che ci porterà a Corta che ci porterà a Venezia rientra anche lui in gruppo squadra mentre Luciano come ci eravamo detto rientra dopo la sosta e di conseguenza da questo punto di vista sono abbastanza orientato sulle scelte l'unico giocatore fra virgolette che può essere in dubbio domani sulla convocazione è Roberto ma verrà valutato domani mattina grazie